Senti Dolores, devo spiegare la parabola del buon samaritano, ma anzi mi concentrerei di più sulla cornice. Se ci riusciamo perché... Ma tu ci hai fatto un libro. Ah, è vero, però se ci riusciamo perché qui c'è l'ambulanza, i gabbiani, gli uccelli, il rumore, la strada di Trastevere. Ma c'è anche la vite, c'è l'albero di limone. Sì, è un luogo meraviglioso, un po' rumoroso, speriamo di riuscire a non distrarci. Bentornati e buona domenica. Siamo ancora nel cuore di Trastevere, all'ospizio di Santa Francesca Romana, più propriamente nel chiosso, ma ci spiegherà tutto il diacono Massimiliano Floridi, che conosce bene questo luogo e di cui si prende cura. Noi ricordiamo che commentiamo in questa domenica la parabola, forse tra le più note di Gesù, quella del buon samaritano, che viene narrata quando Gesù si trova proprio in cammino verso Gerusalemme. La parabola parla di un cammino di un pellegrino che viene però aggredito dai briganti e che viene ospitato in un pandocheion, in un albergo, in una struttura dove si potessero prendere cura di lui. Il samaritano dice poi tornerò di nuovo e dà del denaro anche all'albergatore. Che cosa ti fa venire in mente Massimiliano questa parabola pensando alla storia di questo luogo? Ma qui siamo in particolare nel giardino di Donna Olimpia, detta Roma la pimpaccia. Mi fa pensare che non dobbiamo mai giudicare, perché questa donna che è stata la più chiacchierata dama di Roma, è 1650, Papa Innocenzo X, era la cognata ed è considerata una specie di papessa cattiva di quegli anni. In realtà è lei che compra questa proprietà, la rimette a posto e sarà poi grazie a lei che è poi diventata in onore di Santa Francesca Romana un ospitale per i più poveri, per i più in difficoltà a Roma. Quindi Donna Olimpia è nota per aver frescato, con le cose riguardanti i papi, la chiesa, la corte, ma anche tu se non sbaglio appartiene a una famiglia, sei entrato all'interno di una famiglia importante, dei Doria Panfili. Sì, è mia moglie, con il fratello sono gli eredi della famiglia e anche del Papa, quindi Innocenzo X e di Donna Olimpia. E di Donna Olimpia, però Donna Olimpia nonostante questi misfatti è riuscita a continuare l'opera di carità e Santa Francesca Romana è stata lei che ha iniziato tutto questo. Perché prima di Donna Olimpia, alla fine del Medioevo, Santa Francesca Romana operò nella carità veramente meravigliosa qui nella chiesa di questo complesso per una dozzina di persone, di malati, nella chiesa attuale di Santa Maria in Cappella. Quando Donna Olimpia prende come villa, conserva probabilmente l'uso della chiesa come ospitale e poi dopo la sua morte la villa non serve più e la famiglia abbia questa grande occasione di fondarci un nuovo ospitale, più grande, fino a 120 persone ospitava nell'Ottocento. Molto interessante il fatto che non ci si possa, come dire, che non sia automatico quello che accade. Nella parabola del buon samaritano, il levita, i sacerdoti erano quelli deputati a fare la carità e non la fanno, il samaritano disprezzato invece si prende cura di quell'uomo incappato nei briganti. Così come questa donna, nota nella storia della chiesa per quello che ha combinato, invece è capace di continuare una struttura per i poveri. Vogliamo ringraziare Massimiliano perché ci ha accompagnato in queste quattro puntate per averci permesso di stare in questo luogo così bello. E noi adesso, ciao, grazie, continuiamo la lettura del capitolo decimo del Vangelo secondo Luca. Non faremo attenzione solo alla parabola in sé, ma al contorno, cioè la ragione per cui Gesù l'ha raccontata, il dialogo tra Gesù e il dottore della legge. Il capitolo decimo del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto». Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». «Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» Quello rispose «Chi ha avuto compassione di lui?» Gesù gli disse «Va, e anche tu fa così». E così rientriamo nella Chiesa di Santa Maria in Cappella per commentare la pagina del Vangelo del Buon Samaritano. Ma in realtà dobbiamo fare attenzione alla cornice che contiene questa famosa parabola. La pagina del Vangelo di oggi inizia non come la CEI e la traduzione liturgica prevede spesso in quel tempo, ma con un avverbio importante, idù, ecco. In realtà è una forma dell'imperativo, del verbo vedere, che segna qualcosa che sta accadendo come per richiamare l'attenzione. Ed ecco, è qualcosa che accade mentre abbiamo detto precedentemente Gesù si trova nel viaggio verso Gerusalemme. Questa parabola, tra le più note dei Vangeli, ci viene trasmessa soltanto da Luca ed è una parabola, come le altre, che viene raccontata quando Gesù si trova sulla strada verso Gerusalemme. Qui però immaginiamo che ci debba essere stata una sosta perché un dottore della legge si alzò e quindi possiamo pensare che ci troviamo in una situazione di una pausa durante questo percorso per salire a Gerusalemme. Nomikos, il dottore della legge, è un esperto, è come uno scriba, quelli di cui si parlano i Vangeli, gli scribi, dei farisei. È qualcuno che conosce la nomos, cioè la legge, che è il modo, nel mondo greco, nella traduzione della Settanta, in cui si parla della Torah e dell'insegnamento. Si alza in piedi, probabilmente qualcuno dice come segno di rispetto ed è molto importante il verbo che si trova subito al versetto 25, ek peirazon, per metterlo alla prova. Peirazo è un verbo difficile da tradurre perché è lo stesso verbo con il quale si esprimono le tentazioni di Gesù. All'inizio dei due Vangeli, dei tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, si dice proprio che Gesù viene messo alla prova da Satana o dal diavolo. Peirazmos, il sostantivo, è anche quella parola che si trova nella preghiera del Pater, del Padre Nostro, quando noi chiediamo a Dio non farci entrare, non abbandonarci la nuova versione della conferenza episcopale italiana, alla tentazione. Saremmo dunque anche noi tentati di tradurre questa espressione in modo malevolo e alcuni colleghi fanno così, vedendo nella prova da parte del nomicos, del dottore della legge, una prova che vuole far cadere Gesù, lo tentano, cioè nei confronti di qualcosa che gli chiedono. Personalmente non vedo questo atteggiamento e lo si capisce da quella che è la reazione di Gesù stesso, il quale risponderà alla domanda del dottore della legge in modo molto preciso. Che cosa gli chiede il dottore della legge? È una delle domande che circolavano, che era oggetto della discussione del tempo, ma che in fondo è una domanda che riguarda ciascuno di noi. Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Qui il verbo ereditare è tecnico, noi potremmo dire cosa devo fare per vivere per sempre. E cioè per vivere anche dopo la morte, per avere la vita eterna. È una domanda che tutti ci poniamo. Che cosa accadrà dopo la nostra vita? Gesù risponde e, come abbiamo detto, lo fa in modo benevolo, comprendendo che non si tratta di una tentazione per farlo cadere, come altrove si dice nei Vangeli, ma piuttosto di una delle machlochet in ebraico, questa parola che significa le sfide, le guerre, ma intese come le diatribe rabbiniche, che sono testimoniate in tutta la letteratura rabbinica e che avevano a che fare con delle domande che venivano poste alle persone che si ritenevano capaci di rispondere, degne di insegnare. E così anche nel Vangelo secondo Matteo, quando Gesù arriva a Gerusalemme, viene sottoposto a quattro prove su quattro argomenti specifici. Ci sono narrazioni di rabbini che prima di poter insegnare vengono messi alla prova su sette questioni dettagliate e specifiche. Dunque Gesù viene messo alla prova e come un bravo rabbi risponde con una controdomanda. La domanda è importante perché, se vogliamo, noi siamo troppo pronti a dare risposte. Mi torna alla mente la discussione che c'è stata per preparare il sinodo sui giovani quando nel documento preparatorio, nel seminario che si è tenuto per questo sinodo, si ricordava che i giovani, in particolare, ma forse tutti, non vogliono delle risposte a domande che non hanno. E dunque le domande sono molto importanti. Ed ecco che Gesù risponde con una domanda che rimanda con fiducia al suo interlocutore, del quale si fida e infatti gli chiede che cosa sta scritto nella legge, come leggi. Ecco, la domanda è doppia. Che cosa sta scritto nella Torah? E' molto importante che Gesù stia cercando un luogo dove poter condividere quello che unisce. Noi sappiamo che c'è una lunga discussione se si possa o non si possa fare il dialogo con tutti. Personalmente credo che il dialogo sia la forza del Vangelo, perché può incontrare tutti, almeno su un terreno comune. si chiama tecnicamente questo la ricerca di un luogo dove si possa condividere un argomento ex autoritate, un'autorità cioè che sia riconosciuta da tutti. E così il dialogo, si scopre, è possibile con tutti, perché con tutti c'è qualcosa in comune. Che cosa unisce questo potenziale avversario, il nomikos, il dottore della legge, a Gesù? È la legge stessa. Ecco che Gesù dunque, per rispondere alla domanda, dice che cosa c'è scritto nella Torah, che tutte e due le parti condividono. Possiamo ricordare allora che con i nostri fratelli ebrei, ai quali siamo uniti, perché apparteniamo alla stessa storia, Gesù è ebreo, ma dai quali ci dividiamo per la fede cristologica in Gesù, possiamo dire che diversi documenti, per esempio, sono stati scritti unitariamente su quello che ci unisce. E dunque l'unico Dio, il rispetto della persona, il rispetto della creazione, c'è sempre un terreno comune sul quale ci si può misurare. La seconda domanda che Gesù fa è come interpreti? E quindi sta dando molta fiducia al suo interlocutore. Ancora una volta, se Gesù non si fosse fidato, non avrebbe chiesto al dottore della legge che cosa pensa lui. E questo risponde. Per avere la vita eterna, provocato dalla domanda di Gesù, bisogna fare come è scritto nella legge. E qui viene recitata la famosa formula del capitolo sesto del libro del Deuteronomio, che viene chiamata dagli ebrei lo Shema Israele. È la professione di fede, che inizia così, ascolta Israele, Shema Israele. Ecco, i comandamenti, è l'inizio del cuore, della fede di Israele, al punto che questa formula viene ripetuta e pregata nelle sinagoghe ed è il centro della preghiera sinagogale. Si dice in piedi è la amidà, la professione di fede, in piedi. L'ebreo si riconosce in queste parole, così come il fedele in Dio musulmano dice Allah è l'unico Dio e Maometto è il suo profeta, l'ebreo riconosce di appartenere al popolo di Israele, di credere in Dio in queste parole. Ascolta Israele, il Signore è uno solo, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, il tuo prossimo come te stesso. E Gesù, ecco, ascolta con gioia questa professione di fede che anche egli condivide e dice è la risposta giusta. È molto interessante che Gesù qui confermi la risposta del suo potenziale avversario, perché dobbiamo dire che non avviene sempre così. Infatti può accadere che molte volte, pur di non dar la vinta ai propri avversari, si cambi addirittura opinione. E invece Gesù sta al punto. Quello che gli ha risposto il Dottore della Legge lo condivide. Hai detto bene, ma non si preoccupa semplicemente di dire questo. Aggiunge una frase che si troverà anche alla fine della pagina, e cioè fai questo e vivrai. Non si tratta dunque semplicemente di conoscere formule, di sapere cose, ma c'è una dimensione fattiva, pragmatica. Fai questo, fai così e vivrai. E qui sorge il punto. Il Dottore della Legge per giustificarsi, scrive il Vangelo secondo Luca, fa un'altra domanda. E chi è il mio prossimo? E anche qui alcuni esegeti, alcuni colleghi pensano che questo Dottore della Legge voglia in qualche modo giustificare se stesso. È come pensando di non voler mettere in pratica queste cose. Probabilmente qui invece dobbiamo aprire un'altra interpretazione. E cioè è chiaro che qui il Dottore della Legge vuole spiegare perché dal suo punto di vista c'è bisogno di dire chi è il prossimo. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, se vogliamo, è impegnativo ma significa quello che si può fare cioè amarlo con tutto il cuore direbbero gli ebrei nella loro interpretazione con la parte buona e la parte cattiva di sé cioè con tutto il cuore amarlo con tutte le forze cioè anche con quello che si possiede con i propri denari amarlo con tutta l'anima cioè fino a dare l'anima la vita e sto così spiegando una delle esegesi classiche di questa frase ma qual è il prossimo? Che cosa significa amare il prossimo? Al tempo di Gesù probabilmente c'erano diverse interpretazioni del prossimo alcune molto ampie alcune riduttive per esempio nella setta di Qumran il prossimo veniva considerato solo quello della propria gente quelli come me oppure si poteva pensare alcune interpretazioni potevano essere intese come gli ebrei ma nella Bibbia stessa si capisce che il prossimo in fondo è chiunque sta davanti a te cioè chi è ti è vicino chi ti è lontano ma è il punto è qual è? che Gesù il punto è che Gesù non lo vuole definire ed è questa la svolta della pagina del Vangelo di oggi ci siamo resi conti che io non ho spiegato la parabola del buon samaritano perché la parabola è l'espediente con il quale Gesù vuole evitare di concettualizzare di astrarle di fronte alla domanda chi è il prossimo Gesù non pone un confine non vuole dare una definizione e quando Gesù non vuole dare definizioni racconta parabole come quando deve parlare del regno e in questa parabola che ora non abbiamo l'occasione di vedere da vicino ma se volete potete anche leggere un commento che ho scritto che si intitola Le sette misericordie del samaritano di Gesù buon samaritano ecco in questa parabola si dice che il prossimo è chiunque venga in tuo soccorso bisogna mettersi cioè nei panni dell'uomo caduto nelle mani dei briganti e da quel punto di vista non si faranno più differenze tra chi è sacerdote tra chi è levita o tra chi è samaritano che abbiamo spiegato nei commenti precedenti era una persona ritenuta avversa straniera intollerabile per il popolo degli ebrei allora questa parabola serve a Gesù per sbloccare aiutare questo dottore della legge ad uscire dall'astrazione e andare verso il concreto e infatti la domanda è ribaltata chi di questi tre si è fatto prossimo il punto non è qualificare l'altro ma il punto è andare verso l'altro come il samaritano ha fatto nei confronti di quell'uomo caduto nelle mani dei briganti e allora il dottore della legge gli dice chi ha avuto compassione di lui e Gesù gli rispose e gli disse va e anche tu fai così Gesù ci ha insegnato che è molto più importante andare verso gli altri magari che pensare definire o credere che il prossimo sia soltanto quello che appartiene alla mia gente al mio paese il prossimo per Gesù sono tutti gli altri buona domenica a tutti e arrivederci al prossimo convento del Vangelo convento del Vangelo